è successo che verso le 10, mentre presentavamo un libro, un gruppo che è riconducibile a Casa Pound, che è un'organizzazione di estrema destra, è venuto e con le macchine hanno fatto la provocazione, sono usciti, sono scazzottati con i giovani del comitato. Dopodiché sono due di Carabinieri, dopodiché questa mattina è uscito il comunicato che dice il teatro del Vito è un covo di estremisti di sinistra e dunque va chiuso. E' partita questa azione di screditamento a cui si sono associati, ascoltate, ascoltate, anche alcuni consiglieri della provincia di Roma del PDL, dicendo che appunto il teatro occupato va immediatamente chiuso e che è un covo dei centri sociali e un covo dei comunisti. Allora io dico che bisogna stare attenti a questo clima che si sta creando in questa città, perché tra Brunetta che dice che siamo la parte peggiore, non tutti noi precari, tra Berlusconi che con vent'anni di berlusconismo ci ha massacrato e con queste formazioni così aggressive che vengono e si permettono di entrare nel tempio della cultura e della cittadinanza che un teatro e di picchiare gli giovani, beh io dico che bisogna stare molto attenti, bisogna rilanciare con assoluta determinazione questo processo creativo che sta succedendo qua dentro, a fare in modo che diventi così contagioso che davvero nel giro di poco tempo ogni città grande abbia un teatro occupato in modo che possiamo parlare con il Parlamento e non solo con il Campidoglio. E noi siamo per questo e ci metteremo tutta la nostra festa. Grazie.